Buon Natale! Buon Natale a tutti! Ma Natale è già passato! Come è già passato? Dai, non scherzare papà! No, non sto scherzando, oggi è il 27. Non ti ricordi, a Natale siamo stati date tè, abbiamo mangiato lì e poi ti sei addormentato. Ma come, non abbiamo fatto gli auguri agli amici parenti? Già fatti! Ma non è tu ricordatevi che oltre ai regali Natale e soprattutto alla festa di Gesù? Sì, l'hanno detto. Ah, ma l'ha detto non mangiate troppo e non sprecate il cibo perché ci sono bambini in Africa e in ogni parte del mondo che non hanno da mangiare? Sì, anche questo l'hanno già detto. Ah, papà, ma tu mi intervisti solo ora che Natale è già passato. Eh, che ti posso dire? Ma hanno detto festeggiate Natale e queste feste ed andate a trovare pure amici e parenti, ma ricordatevi di chiudere la porta a chiamare se non vengono i ladri? No, veramente questo non l'hanno detto. Ok, allora, buon Natale anche se è già passato e buone feste. festeggiate pure e se uscite per andare a trovare amici e parenti, ricordatevi di chiudere la porta a chiamare se non vengono i ladri. Ok. Buon Natale è buone feste. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.